Noi come amministrazione abbiamo proprio l'intenzione di facilitare il cittadino con relazione ai tributi. Cosa vuol dire? Che stiamo puntando sulla reinternalizzazione totale del servizio dei tributi. Dopo il successo dello scorso anno del cassetto tributario, quest'anno noi lo abbiamo riproposto in una versione nuova, un cassetto tributario 2.0 si può definire, grazie al lavoro del nostro nuovo dirigente, il dottor ingegnere Scorrano, che è un ingegnere informatico, che ha messo a disposizione le sue capacità per creare ex novo proprio un software di gestione dei tributi. A questo quindi io intendo sottolineare il fatto che bisogna riscriversi nuovamente, quindi i cittadini si devono riscrivere di nuovo per usufruire di questo servizio di cassetto tributario che consente di controllare le proprie posizioni su internet online, direttamente da casa, stampare il modello F24 e ovviamente stiamo lavorando anche per l'implementazione di questo servizio. Cosa cambia nel concreto per i cittadini di Montesilvano? Sarà più semplice pagare i tributi? Sicuramente sarà più semplice perché attraverso il nuovo strumento che abbiamo sviluppato internamente sarà possibile accedere alla propria posizione direttamente in tempo reale, allo stesso modo di come è possibile controllare la posizione venendo in ufficio. Non ci sono più scollamenti di tempo per gli aggiornamenti delle banche dati. La cosa più interessante che abbiamo messo in campo con questa nuova trasformazione del servizio è un servizio che chiamiamo lo sportello automatico che in qualche modo previene l'utilizzo delle variazioni da parte del cittadino. Parliamo ad esempio di una variazione anagrafica. Un cittadino fa una residenza, nasce un figlio, automaticamente il sistema provvede all'aggiornamento della banca dati e all'invio dell'avvio di pagamento rettificato.